Si occupano di assicurare una convivenza civile, di arginare la criminalità, di tutelare il cittadino, di mantenere l'ordine mettendo anche a rischio la propria vita. Gli agenti di polizia sono i primi che chiamiamo in caso di emergenza, questo perché sappiamo di poter contare su di loro nel momento in cui ci si trovi in difficoltà. È necessario quindi un cambio culturale che metta fine a una spesso dilagante tendenza di puntare il dito verso chi si mette quotidianamente a disposizione del cittadino, giorno e notte. Per fare questo potrebbe essere d'aiuto sapere che il loro lavoro però non riguarda solo, per così dire, l'attività di repressione di azioni illecite. Grazie a convegni o iniziative, loro mettono a disposizione della comunità strumenti per guardarsi le spalle da eventuali situazioni di pericolo, di difficoltà o di illegalità. L'azione di prevenzione, ad esempio di truffe, di cyberbullismo, di violenze, è volta alla diffusione di una cultura che molto spesso potrebbe non solo salvare la vita a chi ne è vittima, ma eliminare alla radice la criminalità.